Oggi vivremo dei momenti bellissimi, aprite il vostro cuore e vi piaccio con le mani! Non ero felice, io desideravo questa felicità perché c'è solo di noi e chiamato a questa felicità. Come è detto, è un fratello, un amico, un padre. Vorrei fare con voi questo Gioia Sia, chiedendogli che questo sia, sia proprio un sì del cuore. Di giovani, un applauso ai giovani! Gioia Sia